Il progetto della Metropolitana Leggera non può non tener conto di Battipaglia, parola di Vincenzo Inverso, leader di Per un nuovo inizio, intervenuto nello speciale TG News. L'idea di Inverso, avanzata anche al governatore De Luca, nasce dalla necessità di non escludere due centri importanti della Piana del Sele come Battipaglia ed Eboli, dal progetto chiamato a migliorare la mobilità in tutta l'area metropolitana. La metropolitana leggera ha un senso, un motivo e va fatta come infrastruttura importante se questa parte da Salerno, quindi ha un capolinea a nord che è Salerno, ma il capolinea al sud non può essere Ponte Cagnano, l'aeroporto, ma deve essere per forza la città di Eboli e quindi deve attraversare, fermare e passare per Battipaglia, che è la città più grande a sud della provincia di Salerno, e avere una metropolitana leggera in un'infrastruttura che viaggi sull'asse Salerno-Eboli con i due capolinea a nord e a sud e che quindi vada a servire effettivamente un'intera provincia e soprattutto abbracci questo bacino a sud di Salerno, che poi sono i due comuni su cui si riversa anche tutta l'area non solo della provincia a sud ma dell'intero Cilento e di tutta una popolazione residente che può dare un senso e un motivo vero a questa infrastruttura. A tal proposito, come ho fatto già per il passato, ho invitato l'amministrazione di Battipaglia a farsi carico di rivendicare questa fermata, di rivendicare che la metropolitana leggera fosse riconsiderata nel suo tragitto e quindi avesse questa fermata e passasse per Battipaglia, ad oggi mentre noi stasera siamo qui il 12 di marzo tutto tace e come sempre l'amministrazione sulle cose serie, concrete, su quelle opere straordinarie che servono alla nostra città per rilanciarla e per cambiare il suo volto decide di non decidere, di non intervenire, di non rispondere, pensando alle bonalità e alle questioni personali, ai pettegolezzi che poi vediamo non da ultimo ieri sera in Consiglio Comunale.